Un libro che prende spunto dal periodo nero del Covid e dalle tristi esperienze di quel momento. Eleonora Coletta ha raccontato la sua storia nel volume Canale Terminale, presentato alla Masseria Francesca di Crispiano, alla presenza di diversi esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui l'onorevole Dario Iaia, l'onorevole Giovanni Maiorano e la senatrice Maria Anocco, con la partecipazione dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. Io non sono una scrittrice ma sono un avvocato, però nel marzo del 2021 ho perso mio marito di 56 anni e mio padre di 74, morti per Covid ma non di Covid, ricoverati per Covid, al Moscati di Taranto ma morti perché non sono stati assistiti, non sono stati curati, non hanno avuto le giuste terapie, eravamo in terza ondata. Nel libro c'è la raccolta della storia e del dolore di tutte queste persone e c'è anche una sorta di indagine di quella che è la sanità della Puglia, la sanità dell'Asri di Taranto con particolare attenzione. Ha partecipato alla serata anche il consigliere regionale Renato Perrini che ha sottolineato il momento difficile che stanno attraversando gli ospedali pugliesi. Questo libro mi ha toccato anche a me perché in quel periodo ho lavorato molto a contatto con i pazienti, con i medici e in quel momento ho capito veramente la sanità soprattutto nel nostro territorio in che condizioni è, perché ho capito che c'è una grossa difficoltà soprattutto nel personale e questo libro che anche se sono passati due anni è di attualità perché sto vedendo in queste ultime ore che c'è un disastro nei pronto soccorso.